Motocollo 03 del 27 2013, ore 11.40, Morisco Fabio, aspirante maestro Sesta, Mauro Antonio, titolare di Pescheria, il Natale, la domanda contiene la dichiarazione sostitiva dell'atto di notorietà per Morisco, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per Mauro, documento di riconoscimento di Morisco, documento di riconoscimento di Mauro, autorizzazione amministrativa dell'esercizio del commercio al minuto e l'estratto contributivo rilasciato da un indice. Dunque la stella grafica della Camera di Donneccio. Eppure il Casemarie Giunzi. Motocollo 02, ore 11.08, Morisco Fabio, aspirante maestro Sesta, Mauro Antonio, aspirante maestro Sesta, Minieri Saverio, noto carife 26 gennaio 1944, rappresentante di potere, cioè legata a misura del minare dell'impresa di Minieri Saverio, documento di riconoscimento di Minieri Saverio. La domanda per la sedizione del Ciglio, aspirante maestro Sesta, Bonelli Vincenzo. Inizio Vincenzo, un altro da tanto di categoria, Riva Gennaro, nato a Mola 3107-1958. Il documento di riconoscimento di Riva Gennaro, la misura storica dell'impresa individuale di Bonnelli e il documento di riconoscimento di Bonnelli. Grazie. 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 Grazie.